A chi la chiede? Eccolo la! Massimo simbolo! Si vaikeva! Si vaikelui! Yks! Yks! Eccolo la con la gola! Sembrava non ci fosse nessuno, eh? Porca vacca! Alla vostra! Salute! Ciao, ciao! Il cane non la baria più! Un po' si è tagliato le frequenze per questo! L'abbiamo stordito! Un po' si è tagliato! Un po' si è tagliato! Un po' si è tagliato! ma come hai fatto? no, non lo vuole volete veramente ma come hai fatto? io voglio fare un pezzo di pillodonaggio c'è anche la versione di Elvis Presley facciamo tutti i luoghi facciamo solo quello del pinotone molto bene siamo qui noi soli come ogni seta ma tu sei più triste e io lo so per te forse tu vuoi dirmi che non non sai che ti dice che io sto cambiando e tu mi puoi lasciare e io che non vivo più di un'ora pensate come posso stare una vita per se sei mia ma è che te lo sai per spararci un giorno potrai c'eri qui ascoltami io ti voglio a me ti prego fermarti ancora il piede a me io che non vivo un'ora senza te come posso stare una vita un'ora mi è che mi è che è che è che sia un'ora ma è che Grazie a tutti